L'asilo nido comunale La Coccinella di Sondrio resta chiuso. Perché non si è sperimentata una riapertura come centro estivo? Molti genitori avrebbero gradito. A chiederlo Michela Turchatti e Francesco Cagliazza, segretari provinciali Funzione pubblica di CGL e Cisla. In altre realtà osservano il confronto tra amministrazioni e sindacati ha portato a definire modalità condivise di apertura dei nidi in piena sicurezza per bimbi e operatori. Non così a Sondrio, eppure la Coccinella offre un servizio pubblico di alta professionalità, aggiungono, non vorremmo che la decisione, motivata dall'esigenza di concedere al personale il godimento delle ferie non fruite nei mesi di lockdown, rivelasse una volontà di disinvestire o di esternalizzare. La tutela dei diritti dei lavoratori rientra nella nostra azione, precisano i sindacati, ma avremmo volentieri condiviso un progetto, chiaramente dal carattere di assoluta eccezionalità, volto a ridare ai bambini spazi ludico-ricreativi di risocializzazione, rispondendo nel contempo al bisogno di conciliazione vita-lavoro delle famiglie. Siamo disponibili a trovare soluzioni nel rispetto dei diritti di bambini e personale, specie in vista della piena riapertura dei servizi a settembre.